è passato una decina di giorni ma in molti hanno ancora la viva memoria dei disservizi blackberry che ha lasciato i suoi utenti per quasi tre giorni a secco settimana scorsa abbiamo incontrato alberto acito managing director di rimitalia che ha voluto fare il punto della situazione con i giornalisti e tracciare anche il futuro di blackberry per i prossimi mesi e anni allora dopo i tre giorni purtroppo di disservizio abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti blackberry un elenco di applicazioni scaricabili gratuitamente da upward per un valore di circa 100 dollari tutti i clienti blackberry poteranno scaricarli a partire dai prossimi giorni ma ci sono anche novità per i clienti business abbiamo fatti deciso di donare un mese gratuito di supporto professionale dei servizi sui servizi blackberry per gli utenti per gli utenti business quindi è solo come dire un primo inizio di quanto andremo a fare nei prossimi mesi ci stiamo preparando ovviamente per un periodo importante come la campagna natalizia e soprattutto con tantissime novità tanti annunci di nuovi prodotti abbiamo appena lanciato il bold 9.009 nei prossimi giorni presenteremo il nuovo curve 93 60 e soprattutto ieri durante la devcon l'annuncio del bbx che sarà il sistema operativo alla base di tutti i sviluppi futuri sia dei nostri tablet che dei nostri smartphone e quindi l'inizio per i prossimi dieci anni in blackberry grazie a tutti